Benvenuti e ben tornati su MyFootballGersey Questo è l'Away jersey per l'Olimpique Leone per questa season e questa è una versione divertente ma stop talking, enjoy the video! Con il nostro corso e di questo corso Vi conoscere la cura di QTSS Iniziamo a canale Perciamare il nostro corso Perciamare il nostro corso Perciamare il nostro corso Perciamare il nostro corso cosa ne pensate what do you think about this jersey i think that leone always do great jersey i like also this one i like the black and i like the two color blue and red really a nice jersey in my ranking this is a four stars nella mia classifica questa a 4 stelle the cost is very low as always and the shipment was great i received the jersey in four weeks let me know if you like the jersey and what other jersey would like to see in the future please subscribe the channel it's really important for you is just a click but for me it means a lot per me significa tanto per oggi è tutto see you next time ciao